bene vediamo un effetto un po particolare cioè in realtà questo effetto che andremo a vedere è diviso in due parti una prima parte dove ho utilizzato un sistema diciamo basilare molto basilare rispetto ad un secondario in realtà questo effetto qui si può anche realizzare utilizzando delle semplici collisioni però ho notato che con udini a volte i volumi non vengono letti bene dalle collisioni quindi bisogna trovare altre strade e un sistema molto interessante è quello di utilizzare appunto proprio un volume per creare la collisione questo effetto è stato utilizzato come base per creare il risucchio di un fumo lasciato da un personaggio ad esempio che scappa via questo l'ho utilizzato in un lavoro che ho fatto un po di tempo fa quindi vediamo com'è impostata la scena molto semplicemente abbiamo qui un pig head che ovviamente è stato mosso in alto e ho qui un vdb un vdb che mi va a creare sostanzialmente un density con una divisione così almeno è più veloce anche poterlo impostare in altri modi se io volessi aumentare la sua risoluzione posso dividere per un numero maggiore per esempio per 8 oppure se io volessi una risoluzione più grezza posso dividere per esempio per 2 questo modo è più diretto e più facile comunque da visualizzare tale effetto ho utilizzato un vdb ma potrei utilizzare anche volendo un sistema con il pyrosource come visto nelle lezioni nel capitolo precedente ma in questo caso ho preferito utilizzare un vdb perché è molto più veloce anche la sua realizzazione vera e propria il vdb in questo caso non ha bisogno di grandi setup e difatti vediamo che comunque ci va a creare questo volume da quest'altra parte invece ho una sfera una sfera che è stata scalata e animata nel tempo che va praticamente a collidere con la geometria del mio pig head e qui ho aggiunto un trail un trail dove sostanzialmente ho il compute velocity perché altrimenti se no la velocità non viene analizzata computata e archiviata all'interno della mio vdb questo vale anche per il pyrosource di conseguenza andando ad aggiungere un trail questo ovviamente vale soltanto per le geometrie se avessimo le particles le particles già hanno una velocità un vel quindi non c'è bisogno di andare a creare un trail ad ogni modo all'interno del vdb qui di diverso ho soltanto aggiunto il point attribute vel che possiamo vederlo qui basta cliccare sul più scegliere per esempio in questo caso abbiamo point position nell'altro caso invece abbiamo point vel che possiamo aggiungere e importantissimo per esempio facciamolo con un trail ovviamente questo compute velocity e adesso lo avremo anche qua point vel e successivamente devo dirgli di avere una velocity e un acceleration oppure un displacement queste sono come viene utilizzato in questo caso in questo modo e qui posso chiamarlo per esempio vel ovviamente se vado a vedere tra le informazioni facendo questa piccola cosa avrò poi anche il vdb del mio vel per il momento questo non ci interessa possiamo anche cancellarlo mentre qui è utile successivamente li ho uniti all'interno della mia DOPNET in entrando nella DOPNET abbiamo un volume source che sostanzialmente ora si sta aumentando eccola qui un volume source che sostanzialmente è il mio pgad il mio pgad dove ho soltanto la density perché in questo caso non voglio assolutamente aggiungere velocità io volendo per aggiungere velocità potrei utilizzare un altro sistema ancora che è quello di utilizzare sempre un volume source con un nodo di merge quindi io potrei aggiungere qui un nodo di merge collegarlo e in questo modo questo potrebbe essere invece un mio attributo di vel quindi qui avremo vel e vel che sarà un vettore e lo posso aggiungere e quindi questo qui andrà comunque ad aggiungere informazioni a quest'altro mio elemento un po' come abbiamo visto quando abbiamo lavorato con la nuvola però in questo caso preferisco non attivarlo in questo modo perché? perché se lo vado ad attivare in questo modo andrò ad attivarlo costantemente quindi anche quando il mio VDB quello con la velocità si trova lontano comunque andrà ad sommare a dare comunque delle informazioni di velocità cosa che io non voglio quindi cancelliamo il tutto di conseguenza qui ho un secondo volume source dove ho sostanzialmente la vel che è aggiunta sostanzialmente nel velocity update e nel velocity update quando andrà a toccare con il secondo VDB sostanzialmente andrò a spostare infatti vediamo che qui c'è il secondo secondi che è questo qui con la vel quando andrà a toccare la mia sfera il mio PGEAD in formato VDB con le informazioni di velocità andrà a sommarle ad aggiungerle di conseguenza andrà a spostarle infatti vediamo che quando tocca la sfera il mio PGEAD succede qualcosa in questo caso abbiamo comunque una trasformazione a livello di deformazione la stessa cosa si potrebbe fare con uno static object o con un rigid body che è animato e che quindi va a fare questa modifica al VDB il problema è che non sempre vengono letti correttamente e di conseguenza avremo comunque dei problemi per poter realizzare questo effetto questo è molto carino e molto comodo da utilizzare come types anche per creare delle variazioni su altre tipologie di simulazioni grazie a tutti Grazie.